Volevo dare contro a chi compra i gatti di razza quando io ho i gatti trovati per strada. Io ne ho quattro, tutti i trovatelli. E anche io, e volevo fare un appello, non andate a comprare cani e gatti di razza. Bravo. Prendeteli nel canile o nel gattile. Finalmente sento dire una cosa intelligente stasera.